In alcuni motori, al posto degli scodellini delle molle valvole, si trovano dei dispositivi di rotazione. Tale dispositivo fa ruotare la valvola, evitando in questo modo un'imperfetta tenuta della sede valvola causata dai composti o dai residui carboniosi che aderiscono al piatto della valvola quando viene bruciata la benzina. Di solito i dispositivi di rotazione vengono utilizzati sulle valvole di scarico. Se osserviamo qui la figura, notiamo che il dispositivo di rotazione della valvola è costituito dal corpo del rotatore, da una molla elicoidale, una molla a sede piana e dallo scodellino. La molla elicoidale ad anello alloggia in una scanalatura nel corpo del rotatore ed è leggermente appiattita dalla molla a sede piana quando viene montata la molla della valvola. Vediamo in che modo, qual è il funzionamento di questo dispositivo. quando la valvola apre la molla della valvola viene compressa e la sua tensione aumenta. Questo provoca la leggera flessione in alto della circonferenza esterna della molla a sede piana causando l'ulteriore appiattimento della molla elicoidale. Quando la valvola apre, cioè quando la molla della valvola si estende, la tensione della molla della valvola diminuisce. La flessione della molla a sede piana quindi diminuisce e la molla elicoidale ritorna nella sua posizione originale. Questo provoca lo scorrimento nei punti B e C, ma nessun scorrimento nel punto A. Pertanto il corpo del rotatore resta nella sua posizione come quando la valvola è aperta.